A Lucera per la prima volta i guariti sono in numero superiore ai contagiati, lo ha riferito il consigliere regionale Antonio Tutolo che ha fornito i dati aggiornati relativi ai contagi Covid in città. I casi attualmente positivi sono 435, i deceduti da marzo a Lucera a causa del Covid sono 40, i guariti da marzo 654, il totale dei contagiati dall'inizio dell'epidemia 1.129. Si invita a non abbassare la guardia perché il pericolo non è ancora superato. Intanto il sindaco di Lucera Giuseppe Pitta ha comunicato che è stato pubblicato l'elenco dei beneficiari dei buoni spesa a sostegno delle famiglie particolarmente colpite dalla crisi sanitaria ed economica. I buoni verranno consegnati il 23 dicembre dalle 9 alle 13 nei locali dell'ex biblioteca Palazzo Mozzagrugno, sede municipale. Il tutto è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Lucera.